C'è un tempo per andare e un tempo per venire. Ad andare nella fattispecie è il sindaco uscente Marco Alessandrini. Ad entrare in comune con tutti gli onori del caso è il neo sindaco Carlo Masci, contornato dai suoi tanti cavalieri che fecero l'impresa. In attesa della proclamazione ufficiale, Reteotto ha voluto sancire davanti alla telecamera un ideale passaggio di consegne da campioni di fair play. Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai pure tu sei degli anni 60. È sempre un momento solenne questo, la proclamazione ufficiale dovrà richiedere i tempi della burocrazia però è certamente un momento importante perché come ogni cosa ha un inizio ed una fine nella vita così le amministrazioni pubbliche si susseguono. Io sono qui non certo a fare gli onori di casa a Carlo che conosce benissimo quest'aula ma per fare il mio in bocca al lupo, per dargli i miei complimenti perché ha fatto sicuramente una grandissima impresa. Adesso come ho ripetuto più volte dopo la poesia della campagna elettorale scatterà l'implacabile prosa dell'amministrazione e naturalmente insomma è la vita ed è anche un po' un omaggio a Gian Battista Vico e i suoi corsi e ricorsi storici sostanzialmente. Comunque il senso naturalmente poiché io non intendo la politica come una lotta quasi belluina e che gli avversari politici sono tali, non sono certo nemici e auguro a Carlo tutto il meglio per la nostra comune città di Pescara che entrambe amiamo al di là naturalmente degli slogan elettorali che fanno parte del gioco. Saluto il sindaco uscente con cui ho un rapporto da sempre cordiale e che ho avuto anche in questi cinque anni in cui lui è stato anche il mio sindaco perché è stato il sindaco di tutti i cittadini di Pescara. Ho preso un impegno con i pescaresi per la bandiera blu e comincio a lavorarci da subito perché penso che sia un obiettivo che Pescara merita. Sul discorso della moderazione io sono moderato nei toni ma molto determinato nelle scelte da fare perché Pescara ha bisogno di scelte molto importanti e io mi auguro di poterle prendere ovviamente con la mia maggioranza ma anche coinvolgendo l'opposizione, coinvolgendo i candidati a sindaco che sono stati eletti e da cui sicuramente potrò trarre qualche spunto interessante perché ho visto che anche nei loro programmi ci sono cose che possono essere attuate a Pescara, le attuerò io e spero di avere sempre la loro collaborazione per il bene di Pescara. Alessandrini continuerà la militanza politica o tornerà a fare l'avvocato lasciando la politica alle spalle? Questo l'ho detto un po' nei giorni scorsi. Io penso che l'impegno politico per come lo intendo io significa polis, città e penso che mai vorrò essere un cittadino indifferente. Io sicuramente torno ad una dimensione professionale che ho abbandonato in questi anni per fare altro e cioè per adempiere a questo grandissimo onore che è fare il sindaco di Pescara. Dopodiché certamente continuerò a interessarmi della cosa pubblica e non farò mancare il mio apporto possibilmente costruttivo. Lasciamo da parte la politica ma chi è il vero artefice anche di questa serenità ritrovata e di questo sogno immagino coronato? Ma intanto l'artefice credo che sia la vita. La vita ti insegna ad essere sereno perché poi sai che ogni cosa ha un inizio e una fine e le cose importanti sono quelle a cui noi non pensiamo spesso come la salute e invece tutto il resto lo puoi gestire bene. La salute non riesci a gestire bene e questa cosa me l'ha insegnata la vita. Il ringraziamento a tutti i cittadini di Pescara perché sono stati veramente incredibili nei miei confronti. In questa campagna elettorale mi hanno manifestato un affetto e un entusiasmo che poi sono continuati anche dopo. In queste ore io mi rendo conto che non sono soltanto un sindaco che è stato votato dalla maggioranza dei cittadini di Pescara. Sono un sindaco a cui i cittadini di Pescara stanno dimostrando un affetto incredibile. Anche quelli che non mi hanno votato mi dicono era giusto o così. Io ho fatto questa esperienza che per me è la più onorevole dell'esperienza non perché sia amante delle poltrone, non perché non abbia nulla da fare fuori da qui ma perché alla chiamata della responsabilità ho sempre risposto affermativamente. Consapevole che fare il sindaco è l'onore più grande che può capitare ad una persona perché rappresentare la propria comunità è l'onore più grande. Ci sono tantissimi oneri ma è l'onore più grande. Io penso che, ma questa è una questione squisitamente politica, il sindaco sciente è il naturale candidato a succedere a se stesso e penso che sia un errore politico non ricandidarlo. La fine è nota citando il titolo di un libro, il risultato è noto. Questo peraltro non solo a Pescara, anche altrove. Però poi io non coltivo il risentimento perché è stato talmente grande l'onore di questi anni che va bene così. Poi la vita continua. Marinella ha fatto sicuramente una partita eccellente, ha lottato in condizioni difficili ma penso che non siano state certamente le condizioni ideali per giocare una partita controvento perché oggi nel paese soffia un vento che va in direzione opposta. Io mi ricordo nel 2014 c'era un altro Matteo che tirava, però i cicli delle leadership in politica sono accorciati negli ultimi tempi. Però, ripeto, per quanto mi riguarda va bene così. Io non ho, ripeto, questioni da regolare perché mi sembra che sia talmente chiaro che il silenzio o comunque, io mi sono anche stufato di ripetere questa cosa se devo dire la verità, mi sembra talmente chiaro, talmente tante persone me l'hanno detto, io penso che sia nelle cose. Però il centrosinistra ripartirà come sempre succede perché c'è l'alternanza e la forza della democrazia e dovremo lavorare in questi anni per costruire un'alternativa alla prossima occasione in grado di ribaltare quello che oggi è un verdetto molto chiaro. Cosa si risponde e che cosa risponde oggi il sindaco Carlo Masci con un successo che è testimonato dal fatto che non si è andati al ballottaggio, per esempio, che cosa risponde a chi dice ma in ogni caso il vento era quello, ci fosse stato Carlo Masci o chi per lui si sarebbe avuto lo stesso risultato elettorale. È una vittoria anche di Carlo Masci, non solo del vento che tira. Ma intanto basta guardare i dati nazionali per vedere che poi questo vento non tira sempre dalla stessa parte, anche in queste occasioni, perché mi sembra che a Firenze, a Bari e in altre città abbia vinto il centrosinistra. Quindi evidentemente a Pescara si è vinto perché il centrosinistra ha commesso degli errori che ovviamente sono stati pagati in campagna elettorale, non è riuscito a entrare in empatia con la città, ha anche sostituito il sindaco che sicuramente non è un buon segnale per chi si ripresenta e si ripropone al giudizio degli elettori. Poi credo che a Pescara ci sia stata anche una grande squadra, gente motivata, gente che ha passione per la politica, che conosce la macchina amministrativa, che ha grande consenso e tutto questo ha contribuito ad una vittoria che è una vittoria storica indubbiamente, perché non era facile vincere al primo turno con otto candidati a sindaco, ciascuno ha portato via una fetta di elettorato. Fra il primo classificato che ha superato il 50% e il secondo ci sono quasi 30 punti di differenza, quindi credo che sia un dato eclatante, c'è una differenza abissale. Io credo che invece a Pescara sia successa la magia di un gruppo di persone che ha combattuto insieme nella vittoria e nella sconfitta e oggi si è riproposto agli elettori con grandi prospettive, con grandi speranze, con un impegno da portare a termine avendo riscosso una grandissima fiducia. E poi voglio dire anche che forse il candidato sindaco in questa occasione ha pesato nel contatto con i cittadini, perché nella campagna elettorale ho visto veramente il sorriso e gli abbracci delle persone che sono stati sinceri e poi si è visto nelle urne, perché questo risultato è talmente evidente che credo si commenti da sé. In Comune questa mattina, oltre al neosindaco Carlo Masci, anche alcuni dei nuovi consiglieri comunali, tra i quali Claudio Croce, Forza Italia, Vincenzo Dincecco, Lega, Alfredo Cremonese, Fratelli d'Italia. Siamo felicissimi di aver contribuito alla vittoria dell'amico Carlo Masci, siamo tutti quanti entusiasti e volenteriosi. Cercheremo di fare di tutto per cercare di migliorare la nostra città con grandissimo entusiasmo. Grazie ancora a tutti. Dimenticavo di dire avvocato, perché è di casa, la figura dell'avvocato è di casa in questo palazzo. Sì, siamo tanti avvocati, adesso abbiamo salutato il sindaco uscente che è un avvocato, Carlo Masci è un nostro collega, è evidentemente forse una figura che può dare qualcosa alla città di Pescara. Speriamo che non abbia bisogno di essere troppo difesa, almeno, la città di Pescara. Invece, grande successo personale in termini di voti per Dincecco, Vincenzo Dincecco, come impiegherà questo patrimonio? Intanto vi ringrazio, so che in questi giorni avete fatto un gran lavoro anche per assistere le varie operazioni nei vari comuni, nelle varie amministrazioni che si sono rinnovate. Sono circondato da avvocati, spero di non avere il loro aiuto da un punto di vista professionale, ma conto sul loro aiuto da un punto di vista di amministratori, perché sono convinto che questa è una città che avrà bisogno di tante energie e noi dovremmo ricostruire un rapporto con i cittadini pescaresi. Dobbiamo riavvicinare l'amministrazione della città, quindi c'è tanto da fare, tanto da lavorare. Io cercherò nel mio ruolo, che chiaramente non potrà essere nient'altro che quello di consigliere comunale, perché come sapete sono già consigliere regionale, quindi non posso ricoprire ruoli diversi da quello del consiglio comunale e mi sono candidato per fare nuovamente il consigliere comunale per dare una mano a questa amministrazione, perché dopo dieci anni credo di conoscere un pochino quelle che sono le difficoltà che le precedenti amministrazioni hanno dovuto affrontare. Spero di poter collaborare con loro, con Alfredo ci conosciamo da tanto tempo, so che lui ha le idee chiare, Claudio sicuramente lo dimostrerà in questi anni, Carlo è una certezza perché conosce a fondo tutte le problematiche della città. Ecco, insieme credo che dovremmo fare tanto, come diceva prima Carlo, con calma, con serenità dobbiamo iniziare a ricostruire questo rapporto tra amministrazione e città, ma siamo fiduciosi. E allora Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, Cremonese è il più votato del suo partito, anche con quale spirito si entra in comune adesso? Ma diciamo innanzitutto anch'io devo ringraziare tutti coloro che mi hanno dato la fiducia, sono onorato, un risultato veramente impressionante quello che ho ricevuto. Entro con lo stesso spirito con cui sono entrato ormai tanti anni fa lo faccio con ancora più voglia, a fianco all'amico, mi permetto di dire, non lo riesco a chiamare ancora sindaco, Carlo Masci, con il quale ho iniziato l'avventura politica. Credo che, come diceva giustamente il mio amico Vincenzo Dincecco, oggi i cittadini pescaresi hanno la prima necessità di ricreare un rapporto con gli amministratori, con la politica che a mio giudizio in questi cinque anni è stata assente dai veri problemi della città. Entro con la voglia di fare e con un grande peso di responsabilità perché sono uscito con un numero importante di voti e quindi sono grato a tutti coloro che mi hanno dato questa fiducia e a loro devo far vedere che ne valeva veramente la pena. Allora, buon lavoro a tutti. Allora, buon lavoro a tutti.